si presenta dal medico il marito tutto moggio moggio dottore guardi io non so come dirglielo ma mia moglie mia moglie beh cos'è mi dica mi dica guardi mia moglie con chiunque ha a che fare e con chiunque ha a che fare ci va a letto insieme ma come non riesco a capire in che senso in che senso se conosce l'autista ci va a letto insieme se conosce giardiniere ci va a letto insieme se viene l'idraulico ci va a letto insieme se va in chiesa va col prete se va in farmacia va col farmacista il medico dico ma un attimo ma io non sono allibito si gira verso la signora signora ma mi scusi se glielo dico ma lei è malata ah sono malata glielo dica mio marito che dice sempre che sono una puttana